La notizia di Cronaca appena giunta in redazione si parla di un'operazione in corso a Reggio Calabria, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata di Roma hanno eseguito sotto la direzione della Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio una misura di prevenzione sia personale che patrimoniale nei confronti di 11 persone tra le quali sono annoverati alcuni soggetti gravamente indiziati di appartenere alle cosche di Indranghe, Tamorabito ed Aquino ed imprenditori a questi contigui. Nell'ambito della stessa operazione sono state confiscate sempre in provincia di Reggio Calabria 8 società commerciali, 82 beni immobili, 4 veicoli e rapporti finanziari per un valore stimato pari a circa 84 milioni di euro. I dettagli di questa operazione saranno resi noti nel corso del nostro telegiornale delle 14 oppure sono già visibili sui nostri siti lacineus24.it. Bene, adesso è il momento di andare a vedere come titolano questa mattina i giornali, quali sono gli argomenti principali. In primo piano ovviamente la strage di cristiani in Egitto. Vediamo l'apertura stamattina sul Corriere della Sera. Egitto, la domenica di sangue, eccolo dunque il titolo. L'Isis rivendica le azioni nelle chiese al Cairo e ad Alessandria. La visita di Francesco è fra 20 giorni, due kamikaze contro i copti, decine di vittime. Il Vaticano, il Papa non si ferma. Domenica delle palme di sangue per i copti, i cristiani egiziani nativi. L'Isis attacca a due chiese in Egitto e provoca almeno 45 vittime. Papa Francesco tra 20 giorni sarà al Cairo. E poi andiamo a Stoccolma per l'altro attentato terroristico, il lutto e le riflessioni di uno scrittore di Stoccolma. Ero terrorizzato per mia figlia dispersa ma la Svezia colpita resta aperta e civile. Vediamo in questa foto a centropagina i migliaia ieri nel centro di Stoccolma la manifestazione Lovefest contro il terrorismo. E adesso la cronaca italiana andiamo a Budrio, Cecchini, Parà e Sentinelle in mille per catturare Igor. Controlli casa per casa trovati giaciglio e bici, mille uomini paracadutisti, Cecchini. La caccia Igor, il killer di Budrio che in una settimana ha ucciso due volte e ferito un agente. Continua, i cani hanno trovato un giaciglio dove Igor con molta probabilità ha trascorso alcune ore. Anche un giubbotto e una bicicletta potrebbero essere dell'uomo che sta seminando il terrore. Vengono fatti i controlli casa per casa. E la lasciante sentinelle, Igor è braccato ma l'aria da coprire è di almeno 20 chilometri. Questo dunque l'altro argomento riportato sul Corriere della Sera. E adesso andiamo a vedere l'apertura sulla Repubblica. Ecco ancora la strage dei cristiani in Egitto. In primo piano 45 i morti. Il Papa conferma il viaggio. Tre copti, kamikaze degli Isis contro due chiese durante la messa. A fine mese la trasferta dunque di Papa Francesco. Vediamo in questa foto riportata a centro pagina sulla Repubblica i banchi insanguinati dopo l'attentato kamikaze nella chiesa Copta di Tanta. Il presidente al Sisi dichiara lo stato di emergenza nel paese. E poi per quanto riguarda invece la Siria, Russia e Iran avvertono Trump non andare oltre. Altri argomenti riportati in primo piano sulla Repubblica. Vediamo questo che riguarda la politica. Movimento 5 Stelle la rete del partito piglia tutto. Nei giorni scorsi il Movimento 5 Stelle si è recato a Ivrea a celebrare Gian Roberto Casaleggio un anno dopo la morte. Ma anche indubbiamente a celebrare se stesso il Movimento. Infatti in questa fase politica fluida il Movimento 5 Stelle si muove a proprio agio. D'altronde si definisce un non partito. E ancora sempre sulla Repubblica la caccia a Igor. 800 uomini lo stanno cercando e qui tra queste paludi. Legittima difesa lo Stato paga le spese. L'altro argomento sulla Repubblica. Andiamo avanti. Ci trasferiamo sulla prima pagina del quotidiano Il Giornale che apre con la notizia di Budrio che è sotto assedio per la ricerca del presunto killer in campo. Parà e Cecchini in 800 a caccia del criminale russo doveva essere espulso nel 2010. Budrio ancora schiacciata sotto una cappa plumbea di paura dopo una settimana di latitanza. Igor l'ex militare russo che ha freddato un barista che ha raggito al suo tentativo di rapina è tornato a uccidere. Una guardia provinciale ha perso la vita e un altro uomo è rimasto ferito ma il killer è riuscito a fuggire a piedi attraverso campagne e parudi. Ci sono 800 gli uomini che stanno setacciando l'intera zona. E poi la mattanza in chiesa così riporta stamattina il giornale Domenica di Sangue 45 morti in Egitto doppio attentato Isis contro i cristiani. In questa foto vediamo questo cristiano copto fuori da una delle chiese nel mirino dell'Isis. E poi c'è la politica tutti contro tutti nel PD e la sinistra ha di nuovo paura di Berlusconi. Si parla in particolare delle prossime primarie e sempre in primo piano sul giornale vediamo questa notizia che riguarda l'economia, in particolare riguarda le pensioni. Aumentare la pensione è possibile, ecco come fare per incassare di più. Il sistema previdenziale per decenni ha rappresentato una sicurezza nel futuro degli italiani. Oggi sta subendo il più sconvolgente cambiamento degli ultimi 50 anni, coinvolgendo le due generazioni che idealmente aprono e chiudono l'ultimo mezzo di secolo. E poi ancora tasse Italia da record nel G7 in 50 anni cresciute del 18%. E poi adesso siamo sulla prima pagina del quotidiano economico, il sole 24 ore, eccola l'apertura, fisco, parte la caccia agli sconti. La mappa di deduzioni e detrazioni in vista delle prossime scadenze per le dichiarazioni dei redditi, negli ultimi cinque anni istituiti corretti o prerogati due bonus ogni mese. E poi per quanto riguarda il risparmio, le famiglie nel mondo riscoprono i depositi. Così sul sole 24 ore. Adesso diamo una rapida occhiata a un altro quotidiano oggi in edicola. Il fatto, eccola, l'apertura di questa mattina. Salvi l'unità e avrai appalti Enira. Enzi dichiara guerra al report, gli affari di Pessina, Liguria, Iran e Kazakistan. Mentre comprava il giornale. Così lo scandalo nella puntata di stasera su Rai 3. Il super testimone Matteo e Bonifazi parlavano di scambio politico. Dunque l'approfondimento questa sera. Sul report e ancora, sempre in primo piano sul fatto quotidiano, la storia di Copertina. Gli alchimisti del cancro, spacciatori di morte, le false cure. Si parla dunque dell'ultimo caso pochi giorni fa a Torino, la condanna di una dottoressa che curava il tumore contisane per il decesso di una paziente e viaggio nella galassia dei ciarlatani, cui ancora troppe persone si rivolgono. E poi, sempre in copertina sul fatto quotidiano, c'è l'intervista alla Presidente nazionale della Commissione Antimafia, Rosi Bindi. Lascio la politica, il PD è di un uomo solo. Alla fine della legislatura mi ritiro. Così la Presidente della Commissione Antimafia. Questo non è un mestiere, è impossibile impegnarsi senza un fuoco che arde. Il partito è diventato un carro con l'ex leader d'EM unico al comando. Non ha futuro. Le primarie non sono scontate, molti amici sono con Orlando. Questo dunque dichiara la Rosi Bindi stamattina sul Fatto Quotidiano. Adesso andiamo a vedere l'apertura sulla Gazzetta del Sud che non poteva non aprire con la strage di cristiani in Egitto. Orrore in Egitto titola stamattina la Gazzetta. Sangue sulla Domenica delle Palme, due chiese copte nel Milino dei Terroristi, almeno 45 morti e 118 feriti. I camicasi dell'Isis in azione a Tanta e Alessandria. Il 28 è atteso il Papa al Cairo. Visita che peraltro Papa Francesco ha confermato. Altri argomenti che riguardano più da vicino la nostra regione. Partiamo dallo sport, partiamo dalla Lega Pro. Derby salvezza alla regina. Vibonese pari, cosenza KO al granillo. Una rete di Cosnic piega il Catanzaro. E poi ancora, cambiamo argomento, gli studenti calabresi sempre più multietnici. Boom di richiedenti asilo tra i migranti. Scuola calabrese sempre più multietnica. Lo certifica il rapporto annuale del Ministero dell'Istruzione della Fondazione ISMU, diffuso in questi giorni, evidenziando come per il numero dei cognomi stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado, per dimensioni assunte, costante crescita e diffusione sul territorio, la scuola multietnica sia divenuta ormai un elemento strutturale. Intanto, sempre in Calabria, si allarga il fronte dei migranti richiedenti asilo. Sempre in primo piano sulla Gazzetta del Sud, andiamo a vedere altri argomenti riportati nelle pagine interne. Siamo alla cronaca, da Cosenza in particolare, pensionato scomparso, ritrovata la sua vettura, ma dell'uomo ancora non c'è traccia. Poi, per quanto riguarda il tirreno, depuratori a rischio, la risorsa turismo, da Vibo Valencia, si torna a parlare dell'omicidio Lacaria, si cercano altri complici. E poi ancora cronaca il delitto di Antonella Lettieri. Siamo dunque a Ciron Marina. Antonella, resta un giallo l'arma del delitto. Così dunque, stamattina sulla Gazzetta del Sud, andiamo sempre, restiamo ancora sulla Gazzetta. C'è lo Sport, nel taglio basso del giornale. Una notizia positiva che riguarda proprio il crotone che ieri ha trionfato Roma e Napoli Tris. I pitagorici stendono l'Inter e adesso sono a tre punti della salvezza. I giallorossi tornano a meno sei dalla capolista Juventus. Partenopei da applausi. Così stamattina sulla Gazzetta andiamo avanti. È il momento di vedere l'apertura stamattina sul quotidiano del Sud. Apertura dedicata alla cronaca. Drangheta, la cupola invisibile. Durante il processo Emilia riemerge il ruolo degli incensurati con le istituzioni. Il pentito Oliverio torna a parlare in aula di un gruppo riservato e segreto dei clan. Ci sono analogie con quella scoperta a Reggio. Dunque, il pentito Francesco Oliverio è tornato a parlare della cupola invisibile dell'Andrangheta. Un gruppo composto da incensurati in grado di mantenere rapporti con le istituzioni. Oliverio ha fatto queste dichiarazioni durante il processo Emilia. E ancora, vediamo a centropagina, questa notizia che riguarda lo sport. Storico crotone, battuta Inter. La doppietta di Falcinelli riapre i giochi per la salvezza. Altre notizie di sport. Il derby del Granillo va alla regina, mentre per quanto riguarda il Cosenza è K.O. in casa. La Vibonese invece pareggia. Tonno fuori dai play-off. La Viola sconfitta gli altri sport oggi in primo piano. E vediamo nel taglio basso del quotidiano, siamo all'edizione di Reggio Calabria. Una notizia che arriva proprio dal regino, il ricordo del vicebrigadiere. Trent'anni fa veniva ucciso a Petrare il carabiniere Rosario Iozzia. La celebrazione è domani mattina nella chiesa amatrice. È presente la famiglia. E poi, da Motto a San Giovanni, raid al parco eolico incendiata una pala. Si indaga sdegno del sindaco. Altri fatti riportati sull'edizione del quotidiano del Sud. Vediamo il caso di malasanità. La donna deceduta qualche tempo fa, dopo aver dato alla luce la sua bambina, libro dialogo con la moglie deceduta. Così dunque stamattina sul quotidiano. Andiamo avanti. Adesso ci trasferiamo sull'edizione, sempre del quotidiano, edizione di Vibo Valencia. Vediamo nel taglio basso del giornale questa notizia che arriva proprio da Vibo. Gli apicoltori lanciano un altro allarme. La presenza di un nuovo parassita esotico e di una norma inefficace a rischio tutta la filiera a causa di una gestione sbagliata del problema. Adesso ci spostiamo su un altro quotidiano. La prima pagina di Cronache delle Calabrie. Eccolo il titolo di questa mattina. Parliamone. Trattative serrate per i posti nell'Istone. Il congresso del PD decide le sorti dei dirigenti calabresi. E ancora la politica. Vandaferro, Regione, poco trasparente denuncia. E poi il Vinitali in corso a Verona. Oliverio al Vinitali fa l'elogio dei giovani. E ancora, sempre dalla prima pagina delle Cronache delle Calabrie, andiamo a vedere altri argomenti. I primi passi per il bimbo torturato dagli scafisti. Aruna impara a usare le protesi. La gioia di Corbelli torna a camminare Aruna. Il diciottenne del Burkina Faso, sbarcato in Calabria a dicembre, in condizioni disperate, sul barcone. Gli scafisti lo avevano legato, mani e piedi, in un modo violento e disumano. Tanto che, una volta sbarcato sulle coste calabresi, i medici dell'ospedale pugliese e Ciaccio di Catanzaro avevano dovuto amputargli le gambe e parti delle mani. È stata un'azienda di Catanzaro a restituirgli la speranza, offrendogli gratuitamente le costudissime protesi, grazie alle quali oggi ricomincia a camminare, a mostrare i suoi progressi. E Franco Corbelli, che ha seguito il caso sin dal primo momento. E ancora, sempre da Cronache delle Calabrie, ci sono i risultati della domenica calcistica, impresa del Crotone, batte l'Inter all'uscita. E poi, per la Lega Pro, il derby va alla Regina, Catanzaro sconfitto 1-0. Il Cosenza K.O. in casa, la Vibonese invece pareggia. Altre notizie nel taglio basso del quotidiano. Uomo di Gioia Tauro muore in un incidente accaduto nella capitale. E poi, ancora da Cosenza, ritrovate auto e sim dell'anziano scomparso, la ricerca dell'uomo. Proseiwe, così dunque, su Cronache delle Calabrie. E adesso, prima di andare a sfogliare le pagine interne dei giornali, vi parliamo, torniamo ad occuparci della tragica morte di Maria Rita Lo Giudice. Un rispettoso silenzio ha accompagnato l'ultimo saluto di Reggio Calabria, la 25enne, morta suicida. Anche sui social network, dopo giorni di polemiche, emerge solo il desiderio che la giovane possa riposare in pace. C'è un momento nel quale anche la rabbia, le accuse e i giudizi devono cedere il passo di fronte al bisogno di tacere. E' accaduto anche questa volta. Dopo giorni di continua imprecazione contro quel giornalista, quella testata, quel commento, quell'espressione, anche il popolo del web ha scelto di rispettare la liturgia del dolore. Così ieri, giorno in cui Reggio Calabria ha dato l'ultimo saluto a Maria Rita Lo Giudice, in tanti hanno voluto esprimere l'auspicio che ora la 25enne possa finalmente riposare in pace. Una celebrazione, quella tenutasi nella chiesa di Santa Lucia, dove la famiglia ha espressamente richiesto che non vi fossero telecamere o giornalisti. Un'esigenza di intimità comprensibile dopo una settimana di clamore. Poi, al momento della tumulazione, l'abbraccio ideale fra Maria Rita e il padre, una manciata di minuti concessi dai rigidi protocolli previsti per chi è in stato di detenzione affinché ci potesse essere almeno un'ultima carezza. E' stato il giorno del silenzio e del rispetto ieri, tanto nel mondo virtuale quanto in quello reale. Da domani si potrà ricominciare con gli interrogativi e le analisi, aspettando l'esito di quella perizia tossicologica che metterà una pietra tombale anche sui residui dubbi riguardanti le ultime ore di vita di Maria Rita. Poi ci si eserciterà ancora in esegesi più o meno avventate sul disagio giovanile e le sue possibili cause. Intanto, a distanza di una settimana da quella tragica domenica, l'unica certezza è l'eredità lasciata da Maria Rita, la necessità di andare oltre la carta d'identità di ciascuno, spezzando stereotipi e pregiudizi. Consolato Minniti per la Cineus 24 Adesso andiamo a sfogliare le pagine interne del quotidiano del Sud. Partiamo da Catanzaro. In primo piano questa mattina mutilati i lecci del viale del Ciaccio. erano stati piantati nel 1900, rabbia e indignazione per la potatura. I due maestosi filari di alberi sono stati ridotti a veri e propri scheletri. Lo vediamo nella foto, questo intervento che avrebbe dovuto riguardare solo lo sfoltimento. E ancora, vediamo quest'altra notizia, è Pasqua con i rami di vita e di pace, l'arcivescovo Berturone oggi è il trionfo degli umili che lodano Gesù, tradizionale processione per le vie del centro con la benedizione delle palme. E ancora, da Catanzaro ci trasferiamo a Cosenza. In primo piano si parla di sicurezza, il comune si adegua ai nuovi poteri, fioccano intanto le multe dei vigili per guida senza cintura o al telefonino, Occhiuto ordinerà lo sgombero degli spazi pubblici occupati nel centro storico. Il decreto Minniti, meglio di niente. E poi, ancora, da Belsito, scrivo di sesso e mi oscurano, scrittrice denuncia boicottaggi, mentre da Cetraro progetti per il porto esercenti sono preoccupati. Da Cosenza alla Mezzia Terme si parla questa mattina di ambiente, gioiello storico offeso dal degrado, la denuncia d'Italia Nostra del Comitato Lavoro, Sicurezza e Salute, il castello Sedevo Normanno avvolto da erbacce, anche il lucchetto è arrugginito, senza dimenticare i lampioni rotti e le strade dissestate. Restiamo alla Mezzia Terme. Parliamo adesso di storie e di vite al limite, alcune di quelle che la nostra Tiziana Bagnato ha raccolto all'interno della Comunità per Tossicodipendenti di La Mezzia, un luogo che per molti significa tornare a vivere. Sei tu che scegli, assolutamente non è colpa di nessun altro. Ancora non riesco ad immaginarmi una vita senza sostanze, è come se si generasse un'altra persona dentro di te, che comanda lei. Maria è una delle persone con problemi di tossicodipendenza, ospiti della comunità terapeutica Fandango che fa capo alla Progetto Sud di La Mezzia Terme. Qui in un bellissimo spazio, curato proprio dai ragazzi, sta portando avanti il suo percorso riabilitativo, dopo aver superato quello legato alla disintossicazione. Un percorso non semplice il suo, come quello di tanti altri ragazzi provenienti da tutta Italia. Maria ha iniziato ben presto ad usare sostanze a 15 anni, con le canne, la coca o inalando bombolette spray, passando poi all'eroina. L'eroina è come se fosse un grande amore, il primo amore della mia vita. Oggi ha 31 anni, nella sua vita ha provato di tutto, ma ha deciso di mettere un punto fermo e di ripartire. Per questo racconta la sua storia alla C, sperando che possa essere utile a chi pensa che dal mondo delle sostanze si possa uscire quando si vuole. Negli ultimi tre anni che ho vissuto in casa senza luce, senza gas, il degrado mi ha fatto svegliare, mi ha fatto rendere conto che non si poteva più fare. E ci arrivi abbastanza presto, il degrado. Nel giro di quasi un decennio le dipendenze hanno subito un cambiamento drastico, anche arriva un altro tipo di utenza, nel senso che mentre prima era un taglio prettamente di eroinomani, adesso ci confrontiamo sempre più con persone che hanno problematiche di cocaina e di nuove sostanze che circolano sul mercato illegale. Le fasi sono quasi tutte delicate, perché nella prima fase la persona si deve disintossicare, deve staccarsi, deve elaborare questo distacco dalle sostanze, e quindi questo costa fatica, vuol dire mettersi in discussione, vuol dire mettersi in gioco. Nella seconda fase del percorso vai a elaborare il tuo proprio vissuto, quindi andiamo a lavorare proprio su quello che è stato il proprio vissuto di vita, quindi con tutti i vari fallimenti, le varie situazioni, le cose che man mano con le sostanze hai perso. E poi nella terza fase, la fase che è sganciata da questo luogo, che si trova all'interno di La Mezzia, dove è l'appartamento del rinserimento, dove quella è un'altra fase delicata, perché le persone da lì iniziano a sperimentarsi in percorsi di autonomia, di esperienze di volontariato, e pian piano inserirsi nel contesto sociale e lavorativo. Tiziano Abbagnato per la Cineus 24. Ritorniamo sulle pagine interne del quotidiano del Sud. Siamo a Reggio Calabria. In primo piano c'è la politica sinistra italiana, sceglie la via, il congresso provinciale elegge guerrieri segretario. E ancora parliamo della filiera dell'olio tra identità e legalità. Il Dipartimento di Agraria, una due giorni, dell'Accademia Nazionale dell'Olivo, impresa e innovazione, ampio confronto tra studiosi, docenti e addetti ai lavori. Da Reggio Calabria, Vibo, Valencia, l'apertura è ancora una volta dedicata alla politica, ma rasco segretario all'unanimità. Tutto come nelle previsioni al congresso provinciale di sinistra italiana, lavorare per allargare la base e dialogare non solo col PD, ma anche con altri soggetti, conquistare voti di destra e poi attuare politiche di sinistra. Poi c'è la denuncia degli apicoltori, la categoria lancia l'allarme, nuovi parassiti e leggi inadeguati. Ci trasferiamo a Tropea per il premio Bertus, fissato il termine per presentare le opere. Sempre da Vibo, Valencia, la polizia festeggia 165 anni di attività, stamani la deposizione della corona da loro e la consegna delle onoreficenze. Da Vibo, Valencia, ci trasferiamo sulla prima pagina della provincia di Cosenza. Eccola l'apertura, gara per i farmaci, ritardi e rischi. Mega appalto da 750 milioni di euro per tutte le aziende sanitarie e gli ospedali calabresi. La stazione unica appaltante avoca a sé la gestione degli acquisti, 187 lotti fin qui andati deserti. E ancora dal Cosentino ritrovata l'auto di Damiano, ma dell'ottantenne non c'è alcuna traccia. Per quanto riguarda lo sport, il Cosenza fallisce ancora il salto di qualità. Al Marulla vince il Siracusa 2 a 1 e si prende il quarto posto. sempre in primo piano sulla provincia di Cosenza. Un'altra notizia che riguarda la Regione. Quei 60 milioni che la cittadella non vuole assegnare da due anni in attesa della graduatoria per le imprese. Dallo Ionio Cosentino, Conto Graziano, I Colletti Bianchi, Rossano, la vicenda dei pedinamenti e i danni del consigliere regionale Azzurro. Restiamo a Cosenza dove tra pochissimi giorni sarà inaugurata una nuova isola ecologica. Potranno essere conferite tutte le frazioni differenziate di rifiuti, ad eccezione dell'umido, nella nuova isola ecologica allestita dall'amministrazione comunale di Cosenza in piazza Matteotti nell'area della vecchia stazione ferroviaria. Il servizio è gratuito e riservato ai cittadini iscritti al volo della Tavi. Quest'area accoglierà anche materiali ingombranti, piccoli elettrodomestici, legno, farmaci, neon e lampadine, abbigliamento e indumenti usati. Sarà aperta tutti i giorni, compreso sabato e domenica mattina. L'isola ecologica è uno strumento fondamentale a supporto della raccolta differenziata. Potranno conferire i rifiuti differenziati tutti i soggetti schedati attraverso il pagamento dell'Atari e della città di Cosenza. Potranno conferire tutto il materiale differenziato. In questa maniera noi otterremo due vantaggi. Il primo è quello che avremo una più corretta e qualificata raccolta differenziata. Ma la cosa importante per i cittadini è che loro avranno una premialità. Per cui il cittadino, dopo che avrà conferito un quantitativo di differenziata, avrà diritto a dei premi che saranno, nel nostro caso, dei buoni da poter spendere in negozi con noi convenzionati. Il nuovo piano dei rifiuti che abbiamo recentemente approvato in Consiglio Comunale prevede un'altra isola ecologica che faremo nella zona di Vagliolisi e poi altre strutture mobili. Cioè ci saranno delle isole ecologiche mobili che saranno disposte in varie parti della città. Salvatore Bruno per la CNews24 Grazie per aver preferito la nostra informazione. Vi ricordo gli altri appuntamenti con i nostri TG alle 14 edizione giorno, 19.30 edizione serale, mentre noi con la rassegna stampa torniamo domani a partire dalle 7. Grazie e buona giornata. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie.